We are the champions, my friends Ecco le immagini esclusive che il Corriere di Livorno ha raccolto sabato sera al termine di Livorno-Brescia Sono le undici e mezzo in Liamaranto, dopo il grande festa negli spogliatoi, stando per iniziare il giro della città a bordo del Puglia Alcuni giocatori si avvicinano ai cancelli per raccogliere l'abbraccio degli oltre mille tifosi che si sono radunati a Piazzale Montello Ci sono Ciccio Tavano e l'allenatore Ruotolo C'è anche Loviso che improvvisa uno spogliarello e regala la maglietta ai suoi sostenitori Mentre gli altri giocatori, insieme alle mogli e alle compagne, salgono sul pullman pronti a vivere quella che sarà una lunga e indimenticabile notte di festa